amici del canocchiale letterario buonasera io e manuela oggi avremo delle fruste perché dovremmo sottoporre il nostro schiavo ad una specie di tortura una tortura molto piacevole in quanto l'eroe del libro di cui vogliamo parlarvi oggi ci ha fatto sognare farà sognare tutte le ragazze che si avvicineranno a questo romanzo perché è un duro è un uomo alfa infatti quando io leggevo il romanzo mi sono un po emozionata ma non tanto io ho pensato che finalmente la mia protagonista dell'angelo vestesado la mia maddalena santracroce aveva trovato il suo potenziale fidanzato proprio i due personaggi dell'angelo vestesado e questo protagonista che si chiama non a caso adam uomo alfa attenzione potrebbero essere come i tasserini di un mosaico che si trovano e si innamorano per la vita un romanzo taliente un romanzo spietato una cosa molto molto esperta con delle metafore particolari poetiche oniriche e lui è un duro come direbbe una canzone di riga pure un duro ma che ha il cuore tenero fa l'esattore perché un ragazzo rumeno che si ritrova a ereditare il mestiere del padre e perché in questo romanzo se lo leggerete avete la fortuna di leggere questo piccolo capolavoro scoprirete che ci sono delle riflessioni non a caso anche sociali perché giustamente la condizione di un giovane che ha delle speranze che vuole anche studiare ma che si ritrova se non immigrato in una condizione non facile livello economico in un paese dove contano solo i soldi uno prende quello che viene e siccome fine giustifica i mezzi lui fa l'esattore lavoro per degli strozzini in una ravenna che viene proprio dalla realtà del porto si sentono i piedi che puzzano si sentono le bestemmie del porto si sente si respira l'atmosfera da malavita ma in questa malavita ci sono anche delle dark lady che si muovono molto raffinate e questo ragazzo questo adam alla fine poi è un po' sottopo del fascino femminile da una parte è sedotto da una brava ragazza che fa l'infermiera suo padre di cui lui si prende cura che però poi si trasforma anche e dall'altra parte è sedotto da una specie di mistress che poi alla fine è una mistress che è la moglie facoltosa di un avvocato di cui lui si ritrova a essere proprio l'esattore perché la banda criminale per cui lavora presta i soldi a strozzo sono degli strozzini a usura usurari e quindi abbiamo anche un giro di vische clandestine gioco d'azzardo insomma chi più ne ha più ne metta scena hard ma di un certo livello mai volgari altamente altamente tirano su la temperatura e insomma se fosse un film sarebbe il suo regista ideale sarebbe sicuramente besson e il suo protagonista sarebbe genre dei tempi ecco perché io ho amato tantissimo questo libro e vi sto presentando l'esattore di fabio orepo ma cedo subito la prima domanda a emanuela ferrara la giornalista che mi affianca in questa avventura del canocchiale perché tortureremo piacevolmente il nostro ospite facendo finta di avere sotto mano quel gran figo dell'adam che sul protagonista adesso fabio non me ne voglia ma io mi aspettavo adam scherzi a parte questo semplicemente per dire guarda fabio innanzitutto saluto silvia saluto voi che ci state ascoltando e saluto te fabio che ti sei prestato a questa intervista ma vada bene che silvia non si sbilancia mai cioè mentre io sono quella che parte sempre a palla che dice sempre a questo libro mi è piaciuto tantissimo e in un'intervista ho spiegato anche il motivo perché io credo che qualsiasi libro noi andiamo a leggere in realtà ci arricchisce e quindi per questo qualsiasi lettura è una bella lettura fosse anche per dire ok questo autore questo genere non lo leggerò mai più ma ti lascia qualcosa ma silvia è una che non dice assolutamente quasi mai bellissimo non si lascia mai andare ad aggettivi sono molti i parametri sono molto alti è molto stressante la ragazza sostanzialmente però questo è semplicemente veramente per farti i complimenti la battuta su adam ma chiaramente resta una battuta però in realtà io prima non ti ho dato un volto prima di questa sera o meglio ti ho iniziato a seguire sui social e senza voler guardare effettivamente con chi dovessi andare a parlare volevo lasciarmi un po di mistero e un po in te ho trovato anche se vogliamo adam infatti io partirei da una domanda che più che domanda è una tua perfetta e precisa citazione su un tuo social tu l'otto marzo scrivi pubblicità per me stesso edizione dell'otto marzo l'essere umano uomo donna che sia è un predatore e la sua azione è regolata da rapporti di forza che spesso hanno il loro perno nel denaro questa la tesi non particolarmente originale ma decisamente attuale dell'esattore il mio ultimo romanzo regalatelo al posto delle mimose che detto tra noi mandano pure cattivo odore e lasciano antiestetiche palline di merda gialla sui vestiti l'esattore esiste anche in formato ebook così potete risparmiarvi anche il fastidioso odore della catta in più aida e zackia che ha citato già la nostra silvia e dei leziosi protagonisti del libro vi insegneranno a utilizzare strumenti fondamentali per la gestione della coppia nell'ordine un guintaglio una cucina a gas non a norma e il campanello di casa bene elencati questi buoni motivi per acquistare e leggere l'esattore che confesso io ho letto in formato ebook ma non me ne volere mi va l'odore della carta effettivamente quali sono i temi che tu volevi far emergere nel suo romanzo povertà dominazione integrazione tutti questi nessuno di questi qual è il motivo reale per cui tu hai scritto questo che silvia ha definito un piccolo capolavoro allora grazie per la definizione di piccolo capolavoro non penso sia tale e non è per grazie mi fa molto piacere riguardo vorrei togliere ogni equivoco sull'eventuale aderenza col mio personaggio perché adam ha una forma fisica che io me la sogno veramente quindi da questo punto di vista non c'è nessun tipo di aderenza invece per quanto riguarda le ragioni che stanno alla base del libro allora soprattutto è un noir è un romanzo di genere e vuole essere soprattutto questo diciamo non lo non lo vedrei in un'ottica di letteratura sociale anche se naturalmente parliamo di un genere che più di tanti altri racconta la contemporaneità e quindi diciamo che anche un aspetto sociale ci entra dentro per forza il tema fondante per in questo libro lo dicevo in maniera anche un po parodistica in quel post anzi grazie per l'attenzione così da servizio segreto devo dire il tema fondante è il danaro ecco il potere corrosivo del danaro che se vogliamo è anche una delle grandi chiavi storiche proprio del non solo del noir ma sicuramente del noir come genere di tanta letteratura gialla e poliziesca si fanno cose spesso si fanno cose non belle per il danaro naturalmente questo punto di vista per una mia sensibilità diciamo è un punto di vista che ha la sua prospettiva dal basso nel senso che anche per ragioni molto personali insomma io vengo da sono una persona di estrazione proletaria diciamo quindi ho una visione del mondo che diciamo va un po diciamo chiamiamola così dalle stanze dalle stanze della servitù sale fino no alle scale così dove magari a volte si prendono anche decisioni importanti quindi questa è un po la prospettiva del romanzo che e qui e poi chiudo perché non vorrei insomma come dire adesso esagerare però c'è una chiave metaforica cui comunque io ottengo che è quella del diciamo così del del lavoro del lavoro che qui viene tradotto come lavoro criminale ma Adam è sostanzialmente un proletario della criminalità quindi mi piaceva anche raccontare un uomo che si muove all'interno di un mondo criminale in cui anche lì l'ascensore sociale è bloccato perché Adam di fatto si trova a rifare quello che faceva suo padre quindi ecco questo è un po il retroscena diciamo il retroscena morale di quello che ho scritto però se mi si chiedesse una definizione dell'esattore io direi che è soprattutto e principalmente un noir allora io vado subito al sodo abbiamo visto un protagonista duro duro violento anche che fa paura un gran bel ragazzo descritto benissimo perché il personaggio veramente descritto 360 gradi ti fa entrare dentro che però anche un'etica questo è la cosa che lo rende credibile come nei migliori noire cosa succede che il bravo autore ti fa vedere il lato luminoso del del buio cioè tu entri in un mondo criminale ma quando inizi a vederne un po le motivazioni inizia a sposarle quando il personaggio è sì un criminale violento ma anche dei valori è un'etica per cui lui peraltro uno molto pulito in quanto non si droga in quanto difende i più deboli si innamora anche di zacchia che è una ragazza egiziana che peraltro subisce le violenze del fratello e la salva dal destino vorrebbe in realtà salvarla dal destino cui sarebbe in realtà votata per avere per appartenere anche una religione differente con una mentalità differente molto più chiusa della nostra quindi entri dentro questo personaggio e la scala dei valori inizia a essere capovolta il lettore entra in un'ottica di valori diversi e inizia a tifare per il criminale quando questo criminale un criminale che un po i robinud della situazione perché dentro ci sono proprio delle riflessioni che partono proprio dalla società di oggi di come sia difficile è difficile per un giovane borghese è difficile per una persona normale riuscire ad avere il proprio futuro figuriamoci per un immigrato e per un proletario come tu dici quindi una assolutamente uno spaccato sociale validissimo ambientazione ravenna poi ti chiederò perché ma io voglio entrare subito in quello che ha fatto un po breccia nel nel cuore della mia maddalena santa croce perché tu sai io sono autrice abbiamo peraltro lo stesso editore bra edizioni e nel leggere l'esattore io ho trovato il perfetto fidanzato potenziale lo spara impatta quello che vuoi della mia maddalena santa croce perché eh c'è una parentesi quello che poi è un po anche il mio noir anche il mio romanzo noir dove c'è nel mio caso c'è un omicidio che scatta eh sul tema sadomaso eh vengono coinvolte le ragazze che lavorano nei night e poi c'è un commissario che che indaga che però è molto seduto dal dall'ambiente femminile e nel mio caso il tuo adam potrebbe veramente essere il perfetto fidanzato che farebbe perdere la testa maddalena santa croce e maddalena santa croce ha tutte le carte regola per far perdere la testa ad adam quindi ho trovato questa specie di di incastro e la cosa bella che mi è piaciuta è che eh tu eh hai degli spazi in questo romanzo gli spazi che parlano proprio del night perché lui fa anche il buttafuori in un locale notturno in questo locale notturno arriva diciamo l'antagonista della protagonista cioè da una parte lui è innamorato di questa infermiera egiziana brava ragazza però anche seducente che fa da infermiera al padre e dall'altra parte irrompe questa Aida che è una donna già matura però molto bella raffinata moglie dell'avvocato quindi c'è anche questa rivalsa sociale e che però lui vede in abiti di mistress in realtà lei fa anche la mistress alla faccia del marito no? E lui e lì arrivano le scene eh BDSM molto seducenti che tu hai reso molto bene con un con un linguaggio forte e e quello che a me è piaciuto è che ehm abbiamo i nostri due romanzi hanno un minimo comune denominatore cioè eh lui io penso che Adam sia attratto dal mondo del BDSM lui che nella vita è un duro che spacca le teste dei dei debitori che non si sottrae alla violenza è molto attratto dal punto di vista erotico dalla dalle donne sono violente però che interpretano le dominatrici e io ci ho visto molto eh quello che ho messo nell'angelo Vestesado che è una specie di espiazione cioè lui lo fa quasi per espiare sente il peso di quello che lui che lui fa e e in un certo senso passa al testimone dal punto di vista erotico quindi subentra tutta una psiche molto elaborata per cui eroticamente lui vuole essere dominato qual è eh qual è secondo te la leva che fa sì che molti uomini siano così ehm attratti dal BDSM e dalle di stress sempre di più beh allora eh ti dico la verità questa qui è una domanda alla quale dovrei per rispondere dovrei essere uno psicologo dire il vero io no dal tuo punto di vista come emerge nel tuo romanzo sì 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 certo e ma guarda io penso che ehm questo è un parere proprio assolutamente personale io penso che ehm il sesso eh abbia una componente eh ludico teatrale molto molto forte ecco diciamo questo forse è un po' la cosa che differenzia dagli animali diciamo ecco non è semplice necessità di riprodursi non è neanche semplice eh desiderio di scambiare che so affetto anche se poi sono tutte componenti presenti però diciamo c'è un aspetto che io a me piace definirlo teatrale ludico e molto di testa il BDSM è una di quelle ehm di quei momenti diciamo così del dell'erotismo che corrispondono in pieno a queste cose tant'è che è anche ehm un qualcosa che si esprime in termini di community si parla comunità BDSM esattamente come si parla che so di comunità queer o quel che vuoi eh io aggiungo che ehm spesso trovo un'equivalenza tra ehm i raduni eh BDSM con i raduni dei cosplayer questa cosa può far sorridere però io penso che eh chi pratica BDSM comunque si cala il ruolo e questo calarsi nel ruolo prevede anche un uniforme se vogliamo una divisa una divisa che è molto personale che non è inquadrata in nessun tipo di esercito però è il famoso dress code che come dire è richiesto no normalmente nei locali che che indossa anche Aida nella scena nella prima scena in cui compare no che tu che tu hai descritto quindi se dovessi darti una mia lettura eh della cosa direi questo ecco la fantasia una dimensione libera in cui però la cosa che comunque emerge anche nel tuo nel tuo romanzo è che eh ad esempio il primo cane di Aida è un poliziotto il poliziotto anche un tracagnotto con la pancia e poi il secondo cane è lui diventa Adam diciamo un cane sottomesso per cui la cosa che a me ha colpito che tu vai vai a mirare molto dritto eh tanto perché non penso sia solo questa la componente però è una componente molto comune molto spesso le persone che detengono il potere o politico comunque un certo tipo di potere legato alle armi o o all'ordine eh poi ne sentono quasi il peso forse o forse perché sono sono abituati ad avere a che fare con questi strumenti per cui in quel momento nel momento dell'erotismo eh sentono il bisogno di delegare questo potere di essere dominati da qualcuno loro che nella vita sono dei dominatori tra virgolette sì no questo è sicuramente è sicuramente presente poi credo che lo spettro delle diciamo così eh delle delle esigenze o comunque delle delle tendenze insomma delle persone sia il più vario quindi ehm può esserci benissimo qualcuno che ehm uno slave che poi che che non necessariamente magari ha un lavoro che lo pone al vertice di una di una collocopiramide cioè è possibile tutto nel caso però del 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 mio romanzo ehm dicevi giustamente te il discorso dell'espiazione ecco quello ehm quello sì quello quello è proprio così cioè mi piaceva quest'idea che eh Adam comunque avesse anche questo tipo di che diciamo che che il suo desiderio più istintivo quello sessuale si traducesse anche in un bisogno di espiazione proprio perché lui sa di fare del male e non lo accetta fino in fondo ascolta Fabio quello che sicuramente in questo momento abbiamo appunto cercato di parlare di quello che hai definito l'aspetto ludico che effettivamente è un po' eh per quanto io appunto non ci vedo nulla di ludico nella maniera in cui tu descrivi eh queste scene cioè nel senso credo molto in quello che stava dicendo Silvia che confermi tu in questo momento che lo inserisci inserisci il BDSM per dare la chiave di lettura di espiazione in questo caso chiaramente non stiamo facendo di tutta l'erba un fascio non stiamo assolutamente parlando di BDSM e lo dovremmo fare in un'altra maniera e probabilmente con con altre persone insomma con chi lo pratica per cercare di capire poi perché poi sarebbe interessante effettivamente quindi chiedo a Silvia cerchiamoci qualcuno di Eros Cultura con il quale chiacchierare di queste tematiche perché secondo me può uscire qualcosa di bello e ci invitiamo anche Fabio. Quello che sicuramente non è un aspetto ludico di questo romanzo è il Dio denaro che è un'altra tematica molto forte molto importante che fuoriesce dall'esattore e anche qui a me piace Silvia lo sa mi piace citarvi e piace estrapolare dei pezzi dei vostri libri dei libri di voi autori per appunto interagire un po' meglio anche se le cose per Adamo non vanno del tutto come vorrebbe comunque è chiara nella sua testa la consapevolezza che l'Italia è sua più sua degli italiani che aprono il portafoglio per pagarlo. Altro pezzo basta stare al mondo dieci quindici anni e poi se li passi in Italia in un qualunque quartiere popolare la lezione ti entra in testa con più incisività per capire che il denaro è più forte dei muscoli più forte della figa più forte più forte anche delle pallottole e forse più forte addirittura di una bomba atomica. Due sono le domande l'Italia secondo te l'Italia del 2023 è secondo te degli italiani o abbiamo perso il concetto di nazione e di italianità e seconda domanda i soldi possono davvero davvero tutto? Allora dunque per quanto riguarda il concetto di nazione e di italianità diciamo che è una cosa che a me non interessa in effetti uno dei temi del romanzo anche se non è un tema la ribalta è anche così diciamo l'ondata un po' xenofoba che secondo me stiamo vivendo. Il fatto che il protagonista sia un romeno di seconda generazione mi permetteva anche di raccontare questo cioè comunque di che cosa deve passare diciamo un ragazzo che ha da un po' io l'ho immaginato molto giovane l'ho immaginato un 26enne soprattutto l'ho immaginato lavorare nella scena del nella prima scena con cui compare Aida all'interno del locale notturno io l'ho immaginato lavorare con dei colleghi con i quali anche dei rapporti d'amicizia che però ostentano un razzismo così introiettato da risultare quasi naturale e quindi c'è il mio diciamo così la mia io l'augurio che posso farmi da cittadino e che il concetto di italianità sparisca ecco io spero che si affermi un concetto di umanità ecco un concetto di umanità che apra veramente all'accettazione di come dire di orientamenti etnie e quant'altro non è un discorso buonista al mio perché credo che chiunque legga il mio libro diciamo alla certezza di avere a che fare con una persona disincantata ecco quindi però uno dei temi del libro è proprio diciamo l'italianità come disvalore ecco per quanto riguarda invece il denaro secondo me naturalmente il denaro non può comprare tutto perché nulla c'è diciamo non c'è nulla di assoluto al mondo ritengo che io ho usato delle iperbole dell'iperboli chiaramente raccontando un certo milieu che inquadra diciamo così inquadra la storia che racconti in una luce forse anche di pessimismo molto forte però allo stesso tempo proprio perché nulla è assoluto non dobbiamo mai dare per scontato la quel quid di non voglio usare un concetto vago come bontà ma quel quel momento di responsabilità insomma che può avere qualsiasi persona e che può portare a comunque incontrare il prossimo nel modo più produttivo cioè io in questo momento per esempio le cronache vi racconteranno che qui in romagna sta succedendo un piccolo una piccola apocalisse con fiumi che esondano no sto vedendo attorno a me diciamo molta solidarietà ecco questa cosa mi fa molto piacere perché poi si è sempre propensi a quindi forse l'italia non è così xenofoba come dici cioè nel senso che mi piace no ma l'italia mi piace non mi piace l'italianità cioè non mi piace nulla che che io penso che tu contesti l'immobilità sociale penso che il problema dell'italia non sia per niente la xenofobia o il razzismo perché non siamo un popolo cattivo ci sono delle frange si è vero però il problema dell'italia che poi da cui poi forse può derivare anche la xenofobia e il razzismo ma è un rapporto di causa effetto ma il problema centrale l'immobilità sociale cioè non esiste la meritocrazia è tutto immobile anche per i figli dei borghesi attenzione solo i figli delle classi più alte veramente riescono se poi seguono la professione paterna o materna ma io parlo della mia esperienza io facevo l'avvocato quindi è un mondo di professionisti nel caso dell'avvocatura io uscivo col massimo dei voti dalla prima università italiana avvocato su milano primo colpo 26 anni mi sono ritrovata davanti un immobilità sociale assoluta non che non avessi possibilità o futuro ma veramente mi vedevo davanti vent'anni forse anche di più trent'anni a fare la schiavetta la portaborse negli studi altrui e in realtà quando invece sei se fai il professionista e sei figlio di professionista tanti figli di professionisti non voto non neanche col talento insomma che hanno subito la professione paterna materna lo fanno giustamente dicendo e beh non butto via questa opportunità quindi è un immobilità di cui tu parli molto bene e la cosa bella è che tu l'hai fai l'hai fatti entrare come giustamente hai detto nella malavita cioè addirittura anche nella malavita c'è c'è chi scalda la poltrona allora purtroppo mi ha eh zoom mi ha appena notificato che ci restano dieci minuti eh io vorrei non finire mai questa intervista ma come si fa adesso a finire come si fa a finire abbiamo parlato e ci siamo dovuti fermare lo bombardiamo a parlare di italia e ci siamo dovuti fermare perché giusto per chiudere perché io credo che il problema d'italia forse è esattamente che abbiamo perso un po' la nostra identità ma non è per essere razzisti xenopobio chissà che cosa no è vero dalle radici nelle nostre radici degli altri è vero perché le radici profonde sono davvero quelle più importanti secondo me ma non però appunto come si fa a finire con fabio impossibile qual è stata la scintilla da cui è nato questo romanzo cioè ad esempio nel mio caso era morto mi sono detta faccio lo spin off dei suoi personaggi e creo un personaggio matto il femminile e da lì sono partita raffica eh non avrei neanche mai immaginato di scrivere un libro su bdsm che tra parentesi non era per niente uno dei miei argomenti lui è diventato strada facendo no perché molti poi mi fanno le domande nel tuo caso nel mio caso semplicemente c'è una mia diciamo così penso di potermi definire uno scrittore di noir quindi le trame che scrivo bene o male vanno sempre in quella direzione e volevo ecco diciamo volevo esplorare la figura della dark lady ecco che che poi è una figura figura e figura retorica all'interno del noir la volevo la volevo raccontare anche in accordo con quelle che sono quella che è un po la grande tradizione del noir quella proprio quella proprio archetipica che so di jim thompson di david goodis gli scrittori classici del noir però nella luce il più possibile anti romantica infatti aida io penso di poter dire che è un personaggio è veramente il male però se mi permette un gioco di parole io direi che è il male fatto bene perché è un po come quando osservo i miei gatti no io penso che i gatti siano animali crudeli ma non ipocriti e aida è crudele ma non è ipocrita e poi diciamo così sulla sua strada incontra zackia e anche lì mi piaceva scrivere un romanzo in cui ci sono due personaggi molto polarizzati che per tutti si corrono incontro e in qualche modo alla fine si riconoscono perché quello tra zackia aida è un vero e proprio riconoscimento cioè diciamo zackia scopre qualcosa di sé proprio perché chimicamente entra in reazione con con aida è molto bello questo finale in cui le due donne si alleano e metaforicamente anche per sedurre l'uomo anziché contenderselo essere rivali perché in realtà lui è conteso tra idea e zackia è loro molto intelligentemente a sorpresa decidono una soluzione estemporanea che non di che non dichiarano al nostro pubblico così mi è piaciuta questa cosa e manuela domanda di usare se mi permetti in realtà lui appunto dice di del personaggio femminile essere crudele e cattivo però mi piace lo so che lui scrive a pagina 109 e quindi ho un po l'esatto opposto della definizione cattivo crudele bene male la locuzione brave persone non ha un corrispondente fisico nella realtà è un insieme di sillabe gettate nel mondo perché a parere mio mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo il bene e il male non esistono esiste soltanto il qui e l'ora è quello che noi facciamo per espletare quelli che sono i nostri bisogni che a volte possono piacere e a volte no bellissimo e ascolta se tu dovessi dare una colonna sonora e poi te ne faccio altre raffiche così concludiamo quale sarebbe la colonna sonora del tuo romanzo e quale sarebbero diciamo i fumetti a cui più si avvicinano io già la risposta non voglio sapere la data te la prima ma ti interrompo scusami ci sta la citazione che ha fatto all'inizio di di silvia a proposito della colonna sonora che l'ho trovata a teccatissima io non ci avevo pensato a ligabue con i duri che hanno due cuori i duri mi è venuta qua adesso ma è fantastico io come colonna sonora diciamo mi immaginerei qualcosa di molto elettronico sintetico qualcosa come che sono non so se avete presente il john carpenter che non è solo un regista ma anche musicista di certi suoi film penso che so la fuga da new york o distretto 13 le brigate della morte ecco se voi vi andate ad ascoltare il tema di distretto 13 le brigate della morte io come diciamo come sottolineatura dei del settore ce lo vedrei molto bene ma ci vedrei molto bene anche qualche canzone dei porti shed non so se avete presente qualcosa tipo cowboy ci starebbe molto bene per quanto riguarda i fumetti invece io ti ringrazio per questa domanda perché a ida anche se resta una citazione criptata una una cosa che in realtà solo io è in qualche modo ricalcata non so se lo conoscete ma su satanic che è un fumetto degli anni 60 che tra l'altro stanno ristampando in queste settimane e che creato da max bunker e pigono di diabolica ma al femminile satanic era una super criminale coi capelli rossi il suo soprannone la rossa del diavolo e infatti a ida i capelli rossi quindi io pensavo proprio a satanic mentre e pensavo ai fumetti ok ok sì perché poi ho visto che tu sei un appassionato di fumetti io anche c'è di la dog c'è di aboli che io un po avevo visto e vacante in aida non conosco satanic ma e vacan sì e mi sembrava su questo genere mi piace questa resa un po' è vacante un po' è vacante un po' borghese invece satanic e punk e aida è un personaggio punk lo guarderò lo guarderò ma credo che ci siamo e non ci sono corrispondenti di di land dog però c'è quel graffio dell'anima c'è quella per quello io ho detto che io lo vedrei ben interpretato da da lo vedrei da una regia di bessone da un genre no io ci avrei visto nei momenti intimisti e malinconi un carlos santana putti o lights on un po così un po ruggente meno meno rock però sicuramente andrò a vedermi i tuoi suggerimenti perché è bello quando la letteratura viene influenzata dal mondo pop e viceversa ormai c'è questa commissione che poi sono un amante di tarantino quindi e allora è ben uscito le immaginate un'antologia di scrittori amatori non tutti professionisti uno qualcuno si qualcuno no dove noi donne ci immaginiamo ogni donna scrive ma anche uomini scrivono pezzi dedicati a personaggi femminili storici della letteratura dei fumetti e dei film e io ho scritto un racconto su kill bill che proprio mi ha esaltato voglio dare la voce a e su questi fumetti noi ringraziamo fabio ricco vi invitiamo a leggere l'esattore di brè edizioni non potete che non leggerlo in versione cartacea in versione cartacea per sentire l'odore delle pagine se vi piacciono ovviamente il grivido l'emozione una cosa molto molto raffinata ma forte forte con delle belle metafore che vi avvolge io l'ho letto in tre in tre serate e non avevo tempo ma volevo assolutamente finirlo e vi ringraziamo per l'attenzione vediamo appuntamento alla prossima puntata del cannocchiale letterario da silvia alonso manuela ferrara e fabio ricco grazie ciao grazie tante ciao